Cari figli, Oggi vi invito a vivere profondamente la vostra fede e a pregare l'Altissimo affinché la rafforzi, così che i venti e le tempeste non possano spezzarla. Le radici della vostra fede siano la preghiera e la speranza nella vita eterna. Già adesso, figlioli, lavorate su voi stessi. In questo tempo di grazia nel quale Dio vi dona la grazia affinché attraverso la rinuncia e la chiamata alla conversione siate uomini dalla fede e dalla speranza limpide e perseveranti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.